È successo alle 4 di questa notte. Le bombe sono arrivate in tre punti strategici in Ucraina. La Russia ha mosso il primo attacco, dichiarando guerra. Nel frattempo in Italia i concorrenti del grande fratello VIP di Signorini sono ancora chiusi in casa, pensando di dover continuare a dare show al pubblico che li segue con entusiasmo. I telespettatori però. Questa sera potrebbero non avere l'umore giusto per guardare i teatrini tra Delia e Soleil e Alfonso Signorini. Dovrà capire bene come gestire la situazione. Fare una puntata con sfondo sociale? Oppure non andare per nulla in onda? La prima cosa che il pubblico chiede a gran voce è di avvisare i concorrenti di ciò che sta succedendo all'esterno al più presto. Attualmente non sono ancora a conoscenza dell'attacco Russia e Ucraina, ma il conduttore dovrà trovare il modo di risolvere quest'ostica faccenda. Glielo comunicherà in diretta? Salterà la puntata per dare la comunicazione? Moralmente parlando, gli psicologi del GF VIP è probabile che vieteranno l'idea di dare la notizia durante la trasmissione. In questi casi ogni individuo può avere una reazione diversa e di diversa intensità. Cosa succederà allora? Vediamo cosa ne pensano i telespettatori su Twitter. Ragazzi, mi sa che la puntata salta. Giustamente è una cosa reale e molto importante più di Alfonso scrive un telespettatore su Twitter questa mattina. Tanti i commenti a sostenere la tesi. L'appello fatto a Signorini è chiaro. In questo caso il reality finisce in secondo piano. L'Europa piange e una puntata serale del grande fratello VIP potrebbe essere uno schiaffo immorale.